riccardo nella vita di tutti i giorni questo è riccardo ballone un uomo di cui fidarsi 35 6 prego 36 e 2 ciao buongiorno riccardo non mi fai la misurazione della temperatura secondo te quanto c'hai di temperatura 36 36 2 vabbè dai mi fido dai vai non me la misuri sicuro mi fido di quello che tu mi dici ok ciao buongiorno buongiorno un caffè da portare via quant'è una grazie no no cazzo guarda scusa ma portafoglio tranquillo per riccardo ballone che mi porto domani mi fido questa scala la vedo un po pericolante io chiamerei qualcun altro io mi fido di te ma sei sicuro non può accadere se te mi fido mi metti il preservativo il preservativo mi sono dimenticato di comprare tranquillo mi fido ma sei sicura sì sì mi fidi ma sei sicura che te fidi vabbè riccardo ballone in qualsiasi circostante ma in campagna elezionale è stata più efficace è un uomo di cui fidarsi e se lo poterete la prossima volta senza pixel esattamente senza bled noi lanciamo questa campagna non far coglione fidete pallone e raccogliamo quindi diamo tutti gli iscritti a piattaforma russo ad apri sta scatoletta di tonno ah va bene va bene sono lasciato un po trasportare votiamo pallone